Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolisi. In apertura parliamo del campionato di Serie D. Domani si torna in campo per alcuni recuperi del Girone F. Quattro gare di recupero in programma domani nel Girone F in campo a tutte e tre le molisane. Al momento però a rischio i match di Agnonese e Vasto Girardi per le precipitazioni nevose scese in alto molise. Oltre la sfida notarisco vastese, mentre Montegiorgio Giulianova è stata nuovamente rinviata precisamente a mercoledì 10 febbraio. Puntata speciale di A tutto campo in onda domani su Telemolisi e Canale 11 per seguire in diretta recuperi in programma a partire dalle 14.25. Trasferta insidiosa per il Campobasso a Genzano di Roma contro il Cinzia al Balonga. Obiettivo vittoria per i Lupi dopo il mezzo passo falso Casalingo contro il Giulianova. La squadra di Cudini deve ritrovare brillantezza dopo il periodo di inattività. Senza dubbio nel pareggio al Selvapiana contro gli Abruzzesi è mancato quel brio che ha contraddistinto il Campobasso in avvio di stagione. Oggettivamente ci sono tutte le attenuanti del caso per un campionato che non riesce a decollare a livello di continuità di gare giocate. Il famoso ritmo partita e il ritmo campionato anche se vogliamo una condizione importantissima ben nota da tutti coloro che hanno praticato calcio a tutti i livelli. La condizione, la brillantezza e il ritmo gara sono tutte componenti che necessitano di minuti ufficiali nelle gambe. L'avversario di domani impone una crescita netta rispetto ai 90 di gioco contro il Giulianova. L'Alba Longa, riduce dal pari del Civitelle di Agnone, ha un punto in meno in classifica dei Lupi con due gare in più e risulta imbattuta in casa. Quattro successi ed un pareggio, questo lo scorra al Bruno Abbatini, un ruolino senza dubbio da zona playoff. Mister Cudini è intenzionato a schierare la stessa formazione, vista domenica dovrebbe recuperare il centrale Dalmazzi, uscito malconcio dopo uno scontro di gioco. In caso contrario, Sbardella in campo, in avanti, reclama una maglia da titolare Sforzini che resta indietro nelle gerarchie al momento rispetto ad Esposito. E Cogliati. Al Ditella, il Vasto Girardi ospita il Castelfidardo. Prima gara casalinga nel 2021 per il Giallo Blu, l'ultima uscita interna oltre un mese fa, il 20 dicembre, è successo per 2-0 contro l'Aprilia. Operazione riscatto per la squadra di Prosperi, sconfitta 3-1 dalla Vastese. Un passo indietro per il team Giallo Blu, senza dubbio le condizioni disastrose del campo di gioco dell'Aragona, hanno creato più di qualche problema ad un Vasto Girardi che fa del gioco rapido palla a terra, una delle migliori armi. Non è una scusante, solo un dato di fatto, la Vastese ha meritato il successo per maggior fame e cattiveria. Due componenti che non devono mai mancare, in particolare per un Vasto Girardi che ha dimostrato di poter lottare alla pari contro tutti gli avversari. A patto di stare sul pezzo e lottare centimetro dopo centimetro sul campo di gioco. Avversario ostico, il Castelfilardo è senza dubbio la squadra più cinica del campionato. Solo 10 gol fatti e soli 9 subiti. Un collettivo da under 2,5, parlando in termini di bet, che capitalizza al massimo ogni rete messa a segno. 15 punti totali in campionato, una lunghezza e meno di Mercai e compagni con le stesse gare giocate. Altro match interno per l'Olimpia nionese, che riceve la Re Canatese. Al Civitelli arriva un altro avversario quotato, la Re Canatese punta al vertice della graduatoria ed è reduce dalla sconfitta, arrivata nei minuti finali a Castelnuovo. Solo 8 le gare giocate dai Canarini, lo stesso numero dei Granata, si sfidano domani le due squadre che hanno giocato di meno in tutto il girone F. Sfida difficilissima per i Granata di Senigallesi. La squadra ha offerto indicazioni positive domenica contro il Cinzia al Balonga. Buone le prove di Maniscalchi, autore di una splendida rete, del giovane Angelini e della punta croata Craina. Un punto che fa morale e classifica, ora è tempo di sbloccarsi e cercare la prima vittoria stagionale. Domani è la classica sfida dove si ha poco da perdere un avversario più forte che scenderà in campo, con l'obiettivo di portare a casa i tre punti. Qui l'Agnonese dovrà inserirsi e colpire in modo spietato i giallorussi. Infine notizie da casa FC Matese. Dopo i tamponi di controllo sono confermati sei giocatori positivi al coronavirus. Domani la squadra, dopo i dieci giorni di quarantena, tornerà ad allenarsi. I campani non scenderanno in campo sicuramente domenica prossima a Reganati e con grande probabilità nel turno infrasettimanale nel 3 febbraio contro il Giulianova. Il campo basso è reduce dal pareggio interno contro il Real Giulianova. Nel post-gara il commento di mister Cudini. Siamo raccontando sul fatto che sono state creati di più nel secondo tempo che nel primo. Lei parlava di cattivere, non so se siete d'accordo anche sul fatto che è mancata anche un po' la componente cuore per vincere la gara, soprattutto nel secondo tempo. un po' un fatto proprio sentimentale, un fatto di cuore per vincere la gara. Sì, quando parlo di cattiveria forse parlo di inerzia nel prendere la partita, di determinazione nel mettere qualcosa in più per poterla indirizzare. Questo sì. Cuore sì, sicuramente. Non sempre uno quando è in campo riesce a fare quello che vorrebbe. Sicuramente la spinta del pubblico che avremmo avuto ci avrebbe dato qualcosa in più in questo tipo di partite. però in questo momento non possiamo contarci su questo per necessità e quindi dobbiamo andare noi alla ricerca di questo. Non è stato un non volere ma sicuramente, come ho detto prima, l'ansia poi di doverla vincere la partita o di sbloccarla a volte ti porta a non fare quelle situazioni dove in passato siamo stati molto prolifici. Quindi mi riferisco sugli esterni, non siamo stati bravi a superare sempre il 2 contro 1 alla superità numerica o fare uno contro uno, quindi può capitare, però bisogna sbloccare in un'altra maniera. Abbiamo anche altre caratteristiche, nel senso tempo ci abbiamo provato con alcune situazioni, con sforzini dentro. Però può capitare queste situazioni. Abbiamo il rammarico che queste partite per una squadra come la nostra dobbiamo vincerle. Questo sì, però ripeto, è un campionato talmente strano, abbiamo visto anche oggi che l'Alba Longa pareggia da Dagnone quindi erano due risultati scontati sulla carta e invece magari sono di fuori due pronostici non rispettati. Quindi di questo siamo consci ma abbiamo la voglia, la rabbia e dobbiamo avere la cattiveria di andare mercoledì ad Alba Longa e fare il risultato per poterla vincere. Ma tanto dobbiamo guardare partita per partita e soprattutto guardarle per vincerle, non tanto per gestirle. Noi non possiamo gestire, dobbiamo cercare di vincerle. Oggi un qualcosa ci è mancato sicuramente. Vi posso assicurare che non è facile gestire alcune situazioni, cambiare lavoro da settimana a settimana o gestire l'aspetto emotivo dei ragazzi sapendo che poi non c'è la partita. Non è facile, però il campionato ci impone questo. Quindi dobbiamo essere anche bravi oltre che l'aspetto tecnico-tattico nel gestire queste situazioni e soprattutto anche emotive, di motivazioni. Quindi cerchiamo di fare il meglio, cerchiamo di tenerla alta l'attenzione lo stesso. Capisco che poi quando si va in campo, ripeto, la nostra squadra è una squadra che quando perde il ritmo, il ritmo gioco, si fa fatica a riprenderlo. Quindi dobbiamo essere bravi in questo, l'ho detto oggi ai ragazzi, ragionare partita per partita. Non possiamo guardare a cinque partite di distanza. Quindi una partita alla volta è raccogliere il massimo di quello che dovremmo fare. Su questo sia sotto l'aspetto mentale, sia sotto l'aspetto caratteriale, sia sotto l'aspetto energetico. Energetico che parlo di fisico, quindi... Però il problema è nostro, potrebbe essere il nostro, ma è di tutti. Però ripeto, fare una fase di... Però quando c'è, questo è vero. Però tornando al discorso di prima, fare una fase di non possesso è molto più facile gestirla anche in queste situazioni dove ti difendi e quello che puoi fare fai. Quando devi proporre, devi essere sicuramente, devi avere il giusto ritmo gara, giuste motivazioni. Questo sì, non è una scusante assolutamente, però capisco che chi ha necessità di fare i punti fa molto più facile gestire alcune situazioni. All'Aragona di Vasto, il Vasto Girardi è incappato in un K.O. Il direttore generale Antonio Crudele ha analizzato la prova della sua squadra. Antonio Crudele, direttore generale del Vasto Girardi, arriva a sta sconfitta, sicuramente non preventivata. Forse avete pagato anche la sosta forzata della settimana scorsa. Sì, è un campionato particolare, lo sapevamo, è da mettere in preventiva anche questo, però non cerchiamo alibi, non cerchiamo scuse, non cerchiamo attenuanti. È andata così, complimenti alla Vastesi, ha disputato un'ottima gara e noi pensiamo già alla partita di mercoledì. 45 minuti, i primi 45 minuti avete tenuto bene il campo, di fatto è fin da 1-1 la gara, puntavate soprattutto al contropiede, poi nel secondo tempo loro hanno marciato di più, hanno incrementato praticamente la forza del loro gioco e hanno trovato i due gol che hanno fatto poi la differenza. Sì, hai detto bene, abbiamo tenuto bene il campo nel primo tempo, poi ci siamo un attimino disuniti, ma non facciamo drammi, insomma. Come dicevo prima, voltiamo subito pagina, ci può stare una sconfitta qui a Vasto. Loro forse hanno avuto un pizzico di voglia più di noi, ci hanno messo qualcosa in più, perché insomma il risultato parla chiaro, però usciamo comunque a testa alto da questa sfida e come dicevo non facciamo drammi, pensiamo già al recupero di mercoledì. Partita impegnativa sicuramente quella di Castelfidardo, però il Vasto Girardi vuol giocare la gara come magari l'ultima di campionato in trasferta, quando Mercai è stato strepitoso con tre gol. Sì, vogliamo sicuramente riscattare questa sconfitta che è arrivata oggi, quindi ci metteremo anima e corpo, come si dice, per conquistare la... Sappiamo che sarà un impegno difficile, come sono tutti gli impegni difficili, però come dicevo ci metteremo sicuramente anima e corpo per riscattare questa sconfitta e per continuare il nostro cammino. Un punto che fa classifica e soprattutto morale per l'Olimpia agnonese che con una buona prestazione ha bloccato sull'1-1 l'Alba Longa. Ne abbiamo parlato con il tecnico. Mister Senigalesi dell'Olimpia agnonese, abbiamo visto una squadra che ha lottato con le unghie e con i denti per ottenere un buon pareggio, le chiedo che sapore ha a questo punto? Tanto non abbiamo solo lottato con le unghie e con i denti, secondo me abbiamo espresso anche un buonissimo gioco in certi periodi della gara, soprattutto all'inizio della partita e soprattutto all'inizio del secondo tempo. Per un quarto d'ora, fino al momento del pareggio, abbiamo avuto la partita in mano e stavamo facendo delle buonissime cose. Poi ci siamo dovuti aggrappare con le unghie e con i denti per tenere in piedi un risultato perché loro spingevano forte fisicamente, avevano una fisicità superiore alla nostra e quindi spingevano, spingevano. Noi abbiamo tentato in tutti i modi di portare a casa un risultato che valorizza l'impegno e la dedizione che hanno profuso tutti i ragazzi durante tutta la settimana. Deve essere di sicuro un buon punto di partenza? Sì, perché ogni volta qui è una partenza, perché se si gioca ogni due mesi, ogni due mesi e mezzo, noi negli ultimi tre mesi e mezzo abbiamo fatto due partite, credo che sia difficile trovare la condizione fisica e soprattutto le interazioni tra i vari giocatori. Sì, so che è complesso, ma il campionato è questo e bisogna adattarsi. Sì, dunque, come abbiamo detto, una squadra che ha lottato tanto, ora non si può più pensare al passato, ma guardare già al prossimo turno ed è un bene che si giochi subito. Sì, sarebbe stato meglio non giocare contro l'Are Canetese perché vuol dire avere un altro impegno sulla carta quasi insormontabile, però noi siamo in fiducia, crediamo nel lavoro che facciamo e noi siamo convinti che in certe occasioni Davide possa battere Golia e se non avessimo questa speranza sarebbe meglio stare a casa e recuperare. Calendario intenso per l'Avastese, domani impegnata sul campo del Notaresco dopo il successo interno sul Vasto Girardi. L'abbiamo rubato dal campo, Diarrà è giocato poco, prima partita si è entrato, però ha realizzato il calcio di rigore, quello che vi ha dato anche una certa tranquillità per la vittoria. Sì, sì, certo perché anche mi ha dato la fiducia a me, perché sono venuto da una società professionista, diciamo anche se direttante, però sono contento di stare qua. Il primo partito abbiamo vinto, il primo partito è mio, io devo dire ai miei compagni dovevo continuare questa strada perché il campionato è ancora lungo. Senti, sei andato al dischetto e hai anche realizzato poi tra l'altro. Sì, perché ci voleva questo gol, per darmi fiducia, perché dovevo ricominciare il campionato, quindi sono contento di questo gol e lo dedico a tutti i miei compagni. Senti contento della scelta dell'Avastese, prima partita, prima vittoria, tra l'altro con un gol, di più forse non potevi chiedere. Eh, sono contentissimo, sono molto contento. Finita la partita avete continuato a riscaldarvi. Sì, sì, ho fatto un po' di lavoro eropico perché sono entrato negli ultimi 25 minuti e mi sembra che faccio un po' di lavoro e l'ho fatto. Adesso mercoledì si torna in campo? Sì, mercoledì andiamo a Notaresco e proviamo a vincere lì. Vi ricordiamo che domani pomeriggio, a partire dalle ore 14.25, andremo in onda con la nostra trasmissione a tutto campo, così come avevamo già annunciato domenica scorsa, proprio per seguire la partita del campo basso a Genzano contro l'Alba Longa e naturalmente gli altri recuperi che si giocheranno domani pomeriggio. Quindi ricordate, nel pomeriggio di domani alle 14.25, appuntamento con Telemolise a tutto campo per seguire i recuperi del campionato di Serie D. Calcio a 5 di Serie A2 dopo lo stop forzato a causa del rinvio del match interno contro il Giovinazzo di sabato. Il Cus Molise torna in campo per affrontare in trasferta il Futsal Capurso, calcio d'inizio alle 19, nel recupero della decima giornata di campionato. Basket femminile di Serie A1, domani in campo anche la molisana Magnoli a campo basso per recuperare il confronto sul parquet della Dinamo Sassari, match valevole per la sesta giornata rinviato lo scorso 30 ottobre a causa di alcune positività nello staff tecnico del club isolano. Tornato alla sconfitta interna contro Empoli, ai nostri microfoni Gorini e Bonasia. Gaia Gorini, oggi non proprio la migliore delle vostre partite, 51 punti, che sono davvero pochi. Diciamo che non vi è riuscito quasi niente. No, sicuramente non è stata una delle migliori partite e diciamo che ci aspettavamo sicuramente di stare punto a punto fino alla fine, invece così non è stato. Quando abbiamo preso il break, i 10 punti ce li siamo portati dietro tutta la partita e purtroppo non siamo riusciti a trovare delle soluzioni che descerano il respiro al nostro gioco e quindi alla fine abbiamo mantenuto quel break. Senti, una squadra che alterna momenti incredibili, penso al terzo periodo contro Venezia, in cui sembravate davvero inarrestabili, a partite come questa, è una squadra che forse ancora l'equilibrio non lo ha trovato. Beh, forse come dici tu no, però penso che è anche vero che è da solo gennaio che stiamo lavorando con continuità e mi sembra poco per una squadra che sicuramente può dare tanto, tanto di più. Quindi oggi sicuramente sarà una nota negativa, però la testa va subito avanti e bisogna sicuramente pensare agli errori di oggi, però anche subito tirarsi su e cercare subito di avere una vittoria. Ultima cosa, si resetta subito perché ci sono due trasferte che valgono, non dico una stagione intera, però una buona fetta. Assolutamente, sono due trasferte importantissime, per questo dico che bisogna sicuramente guardare subito avanti e non restare a piangersi addosso per oggi e quindi adesso la testa va a Sassari e a Battipaglia. Allora, Valentina Bonasia, è arrivata questa sconfitta, insomma, punteggio basso, forse non è stata la migliore delle vostre partite. Eh no, se non facciamo canestro purtroppo dovremmo difendere di più per vincere le partite. Loro sono brave, giocano bene, però secondo me siamo noi che dobbiamo lavorare un po' di più. Senti, oggi brutte percentuali da tre, tanti rimbalzi offensivi concessi ad Empoli, soprattutto in un momento in cui stavate rientrando. Eh sì, l'hai già detto tu, abbiamo preso tanti rimbalzi offensivi, però poi non le abbiamo giocate bene queste seconde possibilità. E niente, secondo me dobbiamo cercare di lavorare durante la settimana per giocare un po' meglio insieme, perché secondo me si vede che facciamo fatica a un certo punto. Quando c'è da recuperare noi non riusciamo. Senti, a Venezia c'è stato un terzo periodo giocato in maniera magistrale dalla vostra squadra. Oggi un passo indietro. È una squadra che ancora forse non riesce a trovare il giusto equilibrio. Eh sì, anche secondo me ci sono troppi alti e bassi e dobbiamo cercare di trovare un po' di continuità e come hai detto tu di equilibrio. E niente, adesso ci spettano altre due partite, quindi speriamo che giocando più spesso riusciamo a trovarlo più facilmente. Mi hai anticipato, sono due partite fondamentali. Sassari e Battipaglia, due partite in trasferta. Il positivo è che potete subito resettare. Forse il negativo è che adesso la pressione salirà ancora di più. Sì, è anche giusto a questo punto della stagione avere un po' di pressione secondo me. Adesso ci sono delle partite che dobbiamo vincere per forza perché siamo al completo e dobbiamo far vedere quello che siamo e per cui lavoriamo. Quindi ci aspettano queste due partite fondamentali e niente, resettiamo questa partita e pensiamo direttamente a Sassari prima e poi a Battipaglia. Calcio regionale si lavora per la ripresa del calcio dilettantistico regionale. Nelle ultime settimane sono state tante le ipotesi al vaglio per la ripresa dei tornei. Quella appena iniziata sarà una settimana di incontri e riunioni online tra i comitati regionali LND e le società di calcio dilettantistiche per cercare di trovare una soluzione ad uno stop che ormai dura da troppo tempo precisamente dallo scorso 25 ottobre. L'ultimo DPCM in vigore ha infatti sospeso ulteriormente le competizioni regionali e provinciali fino al 5 marzo ma nelle ultime ore una luce si intravede in fondo al tunnel. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ora dimissionario in una diretta social ha infatti comunicato l'intenzione di voler mettere in atto delle misure a sostegno delle società per l'effettuazione dei tamponi. Una notizia davvero confortante che permetterebbe ad un settore che conta più di un milione di tesserati di rimettersi in moto. I ristori necessari per la ripresa dell'attività sportiva dilettantistica regionale e provinciale non sono ancora previsti. Questa iniziativa infatti essendo strettamente legata ai decreti potrebbe essere rallentata dalla crisi di governo di queste ore. Mentre la Serie D infatti prosegue il suo svolgimento il lavoro dei vari comitati adesso ruota attorno alla ripresa dell'eccellenza che è strettamente legata al massimo campionato dilettantistico nazionale. I primi temi da affrontare riguardano la definizione di un protocollo che ricalchierà molto probabilmente le regole valide oggi per la Serie D ovvero un test rapido due o tre giorni prima della gara che coinvolga le società nel complesso non solo giocatori quindi ma anche staff tecnico e dirigenza. Altro tassello fondamentale sarà il format da adottare per la conclusione dei campionati ed è su questo tema che ci sono delle discordanze. Se alcuni comitati spingono per giocare il campionato completo altri propenderebbero per disputare solo il girone di andate e procedere con i play-off e i play-out. L'ultima parola comunque spetterà alla LND che il 5 febbraio dovrebbe prendere una decisione. Palla a volo maschile tra qualche giorno verranno resi noti i calendari della prossima stagione del campionato di Serie C maschile dove l'Energy Time Cus Molise sarà protagonista. La prima gara è fissata per il 14 febbraio in vista del debutto proseguono gli allenamenti dei ragazzi guidati da mister Maniscalco che reciteranno il ruolo di matricola del torneo ma in realtà la società non nasconde qualche ambizione di vertice. Bene, vi ricordo ancora l'appuntamento di domani pomeriggio alle 14.25 con A Tutto Campo per seguire il recupero del Campo Basso di alcune altre partite del campionato di Serie D e quindi vi diamo appuntamento con l'aggiornamento dei recuperi a domani pomeriggio. Ribadisco alle 14.25 A Tutto Campo in diretta dai nostri studi di Campo Basso. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.